Digimonia Rapporto e benvenuti in questo nuovo video Dopo tanto tempo sono qui con un cosa ne penso del tutto nuovo Come appunto ho detto su Instagram vi parlerò oggi di Balan Wonderworld Anche perché ho visto cose online che non sono veritiere al gioco Perlomeno riguarda quelli che hanno giocato solo la demo su PC Perché per chi ha giocato la demo su PC vi posso assicurare che il gioco non è totalmente fedele Cioè la demo non è fedele perché ho completato prima il gioco su PlayStation 4 E poi visto che tutti si lamentavano della demo mi sono fiondata su PC per provarla E ho notato un sacco di cose diverse a prescindere dalla grafica che comunque su PC è veramente... Non è brutta però non è della stessa risoluzione sulla PlayStation 4 E soprattutto alcune meccaniche le ho trovate diverse Non vi farò il nome preciso della meccanica che ho visto che era diversa perché non mi sembra molto il caso Però se avete giocato solo la demo su PC vi direi di dargli una possibilità Dopo questa premessa faccio anche questo video perché in moltissimi mi hanno chiesto un'opinione a riguardo Anche la molledi ci farà compagnia e appunto ora vi dirò tutto quello che penso del gioco Prima ovviamente farò un'analisi oggettiva e poi vi dirò la mia esperienza personale Non prendete questo video come recensione come tutti gli altri cosa ne penso perché non sono vere e proprie recensioni Perché non do i voti ai giochi perché non mi sembra molto corretto e non sono neanche capace a farlo Dirò semplicemente la mia esperienza, quello che ho provato giocandolo Tenendo comunque una versione oggettiva sulle varie meccaniche di gioco Iniziamo subito a Balan Wonderworld è uscito il 26 marzo 2021 Ed è uscito in contemporanea con Monster Hunter, Rise e A Take Two Quindi diciamo che non è che ha scelto un bellissimo giorno per uscire Perché alla fine è stato battuto palesemente dagli altri Il gioco è stato sviluppato da Arzet e Balan Company con il director Yuji Naka Che è praticamente uno dei creatori di Sonic ed è stato pubblicato da Square Enix Il gioco è già disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X, Nintendo Switch e PC Per un costo medio di 60€ Io premetto che ho giocato la versione PlayStation 4 su una PlayStation 4 Fat Chassis B Quindi vi posso dare la mia opinione su quella versione lì Ovviamente si tratta di un platform classico con degli elementi di un gioco d'azione Che si ispira a non pochi giochi già presenti sul mercato come ad esempio Mario Odyssey E a me personalmente ha ricordato non poco Spyro Per le varie gemme che si trovano in giro per la mappa E anche per le statuette di Balan che dovremmo trovare in giro nei vari livelli Raccogliendone ovviamente il più possibile o comunque il numero necessario per accedere ai livelli successivi Infatti sarà uno dei nostri scopi principali recuperare il numero di statuette necessarie per proseguire Ma il vero scopo del nostro protagonista o della nostra protagonista È quello di salvare le persone dai vari mali che affliggono Infatti anche se a primo impatto il gioco ha una grafica veramente carina E un ambiente molto molto allegro Le tematiche trattate nei vari livelli che saranno di un totale 12 E non è uno spoiler perché c'è scritto nel reto della corpertina Non sono del tutto scontate Sono delle tematiche parecchie attuali che possono essere dalle paure a dei momenti difficili da affrontare Dei blocchi improvvisi, traumi Che sono tutti eventi collegati alla nostra vita quotidiana Parlando della grafica a primo impatto può sembrare molto semplice Ma andando più nel taglio e guardando da vicino è veramente dettagliata Ed è comunque molto molto carina Sarà anche semplice e cartoonesca ma è veramente bella Io mi sono innamorata fin da subito dello stile grafico e di Balan Ed è uno dei motivi principali per cui ho acquistato il gioco Perché mette un sacco di allegria e mi mette veramente di buon umore Però il problema è che si sono impegnati poco sulle animazioni Questo lo devo dire Perché sono state reciclate Ma non si può dire lo stesso del fatto che in certi momenti La folla sarà rappresentata dai segnalini di Google Maps Io li chiamo così Per una scelta stilistica e non perché non avevano voglia Quindi se volete criticarlo per questo motivo qui evitate Ho fatto il liceo artistico e quindi vi posso assicurare Che questa cosa di non vorrei rappresentare la folla con altri personaggi lì Tutti dettagliati è fatta apposta per far sì che lo spettatore o il videogiocatore Evita di distogliere lo sguardo sui protagonisti principali in quel momento Anche la colonna sonora fa la sua parte È bella, è veramente ben studiata, è allegra e mette di buon umore In realtà tutto il gioco nell'insieme mette un sacco di allegria e buon umore Questo è quello che ho provato io giocandolo anche dal primo avvio Mi rendeva un sacco felice Per la gioia di molti, penso un 90%, il gioco supporta la lingua italiana Però solamente come sottotitoli Perché la lingua parlata nel videogioco è praticamente del tutto inventata Anche se devo dire che i sottotitoli sono un pochino veloci Qualcuno effettivamente potrebbe avere dei problemi nel leggerli velocemente Perché anche io stessa in certi punti non riuscivo a leggere totalmente Quello che c'era scritto prima che il testo scomparisse Ed è una cosa che mi ha fatto storcere il naso Perché mi sono persa non poche cose Perché appunto non ero riuscita a leggerle E ovviamente non è che ti ricompaiono Passando al gameplay non bisogna aspettarsi un gioco complesso Ne bisogna comprarlo pensando di trovarci davanti a un videogioco all'avanguardia O a un tripla come The Last of Us o Ghost of Tsushima Perché non lo è e non vuole esserlo Già da subito è un gioco che punta a un target infantile E lo potevamo già immaginare dai trailer E anche questo non è un buon motivo per screditarlo Perché siamo seri Pure Spyro è un gioco infantile Ma nessuno lo ha screditato E no, è solo perché Spyro ed era un gioco della Playstation 1 E hanno fatto il remake Non vale come scusa Io l'ho giocato prevalentemente in cop locale Per cui vi parlerò soprattutto di quest'ultima In primis c'è da chiarire il fatto che la campagna Potremmo sceglierla fin da subito Se giocarla in single player o in cop Ma potremmo scegliere anche durante la nostra avventura Magari ci stufiamo di giocarla in cop E decidiamo di metterla in single player Potremmo tranquillamente farlo Ma allo stesso tempo potremmo anche decidere Di ricominciarne una totalmente a parte Tutta in single player Ed è una cosa che ho apprezzato non poco Da giocatore a singolo a cop Non cambieranno le varie meccaniche di gioco Né la storia principale Il gioco è dotato sia di autosalvataggio Sia di salvataggio manuale Che in certe situazioni è veramente molto molto comodo D'altro canto però Non essendo un open world Avrà dei caricamenti che per chi possiede la FAT Non saranno chissà quanti veloci Anzi Sono un po' lentini Se dobbiamo dirla tutta Sicuramente su una Playstation Slim O pro O su un PC O magari sulle altre console Saranno più veloci Come ho detto in precedenza Il level design non è molto complesso Anche se alla vista è molto molto piacevole In cop ci vorrà comunque Non poca coordinazione Per fare le cose al meglio Perché non è così scontata come cosa L'unica cosa che non mi è piaciuta Di meccaniche di gioco È stata appunto la telecamera Perché in cooperativa È combandata da entrambi i player Infatti nel caso se uno muoverà lo stick in una direzione Perché vuole guardare in quella determinata direzione E l'altro player farà esattamente la stessa cosa Ma in un'altra direzione Diciamo che va un po' in confusione E creano un poco disagio Un'altra cosa che avevo all'inizio trovato fastidiosa Ma che poi andando avanti mi sono ricreduta È stata la meccanica calamita O perlomeno io l'ho chiamata così Praticamente quando i due player saranno abbastanza vicini tra di loro Andranno praticamente in combo Nel senso che si attaccheranno Come appunto una calamita Facendo gli stessi movimenti Potrà essere una cosa fastidiosa all'inizio Perché non si è abituati a una meccanica del genere Ma permetterà di mettere in combo Le variabilità dei costumi di cui vi parlerò dopo E anche i salti dei due giocatori Che se con uno avremmo un salto singolo Essendo in due coordinandosi bene Potrebbe diventare un salto doppio Uguale per i costumi Nel senso che se il player 1 avrà un costume diverso dal player 2 Il 2 potrà usufruire dei benefici del costume del player 1 E viceversa Come ovviamente ci si attacca Ci si potrà anche staccare E basterà correre in due diversioni diverse E farà tutto in automatico Durante la nostra avventura Avremo non pochi costumi a nostra disposizione Durante tutto il gameplay E sono ben 80 E anche questo non è spoiler Perché è scritto sulla copertina Alcuni utilissimi per avalzare Altri invece sono totalmente inutili Altri avranno abilità di combattimento Mentre alti non salteranno E anche qui Se criticate il gioco per questa cosa Non lo accetto Perché è una scelta stilistica Ed è stata voluta Per aggiungere un minimo di difficoltà Per ogni livello Che sarà strutturato comunque in due parti Avremo diversi costumi Da trovare e provare Ma ogni livello ha i suoi E quei costumi non li avremo negli altri Infatti per completare al 100% un livello Avremo bisogno di più costumi Provenienti anche dagli altri livelli E potremmo tenerne tre contemporaneamente con noi Per poi switcharli A seconda di quello che ci servirà In quella determinata situazione Ma se noi andremo a prenderne un quarto L'ultimo della fila sparirà Però non lo perderemo Perché verrà salvaguardato Insieme a tutti gli altri Che accumuleremo durante il gioco Nel guardaroba Che potremmo accedervi dai checkpoint Ovviamente i costumi non sono tutti nostri Per sempre una volta presi Ma se superiamo dei danni O cadremo dalla mappa di gioco Noi lo perderemo Possiamo dire che i costumi Effettivamente fungono come una vita extra Perché una volta che avremo perso Tutti i tre costumi E subiremo un danno Oppure cadremo dal mondo Avremo una specie di game over E ci farà ripartire dal checkpoint E qui ci si ricollega Al fatto di sottotitoli Praticamente è impossibile Leggere come funziona un costume In una sola volta Però per fortuna Mettendo in pausa Ci verranno mostrate Tutte le abilità Di quei determinati costumi Che noi avremo con noi Direi anche per fortuna Perché io effettivamente L'ho scoperta a fine gioco Che mettendo in pausa Leggevo quello Che avevo Leggevo le abilità Dei costumi Ecco Cioè praticamente Io sono andata a casaccio Per tutta Per un bello 80% di gioco Durante i livelli Dovremmo appunto Raccogliere le varie statuile Di Balan Sparse Dentro di essi Ma troveremo pure Dei cappelli dorati Che ci daranno accesso Alla sfida di Balan Dove dovremmo premere Il tasto X A seconda del momento E del tempismo Vi giuro Che non è per nulla facile In 2 Faticavamo A fare tutti Fantastico Che equivarrebbe Al perfetto E quindi Ci mettevano Un poca difficoltà Anche perché Facendo un punteggio Più alto C'erano ricompense maggiori Locati in cop Questa modalità Però Terrà conto Del punteggio maggiore Fatto dai due player Nel senso che Se il player 1 Fa un punteggio minore Rispetto al player 2 In una determinata scena Di questa sfida Di Balan Il gioco Terrà conto Del punteggio del player 2 Che era maggiore In quella determinata scena In giro per il mondo Ovviamente Troveremo anche altre sfide Che mi hanno ricordato Molto Wii Sport E devo dire Che erano veramente carine Per spaziare un po' Il gameplay Durante le boss fight Dove mi hanno ricordato Non poco Le boss fight Di Crash Bandicoot A dire la verità Avremo tre stili Di combattimento Da fare E da scoprire Perché comunque Non è che sono così scontate Perché ognuno di esso Ci darà una statuetta Di Balan In più Vi giuro Che fare Tutte e tre Gli stili di combattimento Al primo colpo È veramente difficile È una cosa Che ho apprezzato Il fatto che ti desse Delle statuine in più Perché effettivamente In certi momenti Mi sono trovata Un po' in difficoltà Perché mi servivano E devo dire Che in tutto il gioco Sono riuscita Solo in una boss fight A fare tutti e tre Gli stili di combattimento In una botta sola Se noi raccoglieremo Tutte le statuine necessarie Per sbloccare I livelli successivi Ce li sbloccherà In automatico Anche se noi Non avremmo già Finito i livelli sbloccati Per fortuna però Se non completeremo Tutti i livelli Presenti nel gioco Non potremmo accedere Al finale del gioco Perché sì Diciamo che il gioco Ha un finale Però non finisce lì A sto punto giustamente Vi starete chiedendo A cosa serve raccogliere Le gemme che troveremo in giro A niente Cioè perlomeno Serviranno a sfamare I team Nell'isola dei team Dove appunto Potremo scegliere Che livello fare Ma non avranno Lo scopo di essere usate Come monete O altro Serviranno solo Per sfamare i team Per farli moltiplicare Per sbloccare Le varie cose Nell'isola dei team E non è che ci vorrà Poco tempo per farlo A dire la verità Dulcis i fundus Boris Pensa che Balan Sia il male assoluto E che distruggerà tutto Una cosa che effettivamente Ho dimenticato di dire È che io Durante il gameplay Non ho avuto Bug di nessun tipo Non ho avuto Cali di frame Non ho avuto Crash improvvisi Non ho avuto Nulla di tutto ciò Mentre effettivamente Nella demo su pc Ho visto cose Che non erano presenti Diciamo che Con il gioco Hanno Con l'uscita del gioco Hanno Praticamente Rimosso Tutti i problemi Che aveva la demo Hanno migliorato Il prodotto Finale Quindi appunto Non basatevi Sulla demo Questo è tutto Quello che c'è da sapere Sul gioco Ho cercato di non andare Troppo nel dettaglio Per non spoilerare troppo E devo dire Che a me è divertito Tantissimo Bene o male Devo dire Che impiegherà Una decina di ore Per giocarlo Poi per finirlo Al 100% Ancora non L'ho finito Al 100% Io non platino Mai i giochi Quindi quello ci vorrà Sicuramente Molto più di tempo Però io ve lo straconsiglio Se avete voglia Di un gioco Non tanto pesante Leggero Che vi faccia divertire Che sia simpatico Balan è perfetto Magari effettivamente Per 60 euro E tantino Sicuramente Ne avrei spesi di meno Io l'ho acquistato Al day one Perché lo volevo tantissimo E dal suo annuncio Che lo volevo giocare E quindi io L'ho acquistato Al day one Però Dategli una possibilità Se lo trovate Già 20 euro Acquistatelo Non fidatevi Della demo Perché vi giuro Che la demo È veramente diversa Rispetto a quello Che è il gioco Infatti volevo fare Un video Paragone Perché molti Si sono fermati Giustamente alla demo Perché hanno visto Che la demo Non era tutta questa Gran roba E non hanno acquistato Il gioco Io invece Ho acquistato direttamente Il gioco su playstation E sono stata Veramente Veramente Soddisfatta Perché non è neanche Così tanto scontato Alla fine Spero che questo video Ti sia piaciuto Che ti abbia tenuto compagnia E come in ogni video Se i miei video ti piacciono Iscriviti al canale Lascia un mi piace Un commento Ma soprattutto Seguimi su Instagram E sul sito Viola Troverai i link In descrizione Come in ogni video Ma cosa più importante Se i miei video ti piacciono Condividili con amici Parenti sui social Per aiutarmi A per crescere Questa piccola Comunità E cui tengo tanto E per supportarmi Direi di aver detto tutto Alla fine Non c'è molto da dire sul gioco Nel senso che È un classico platform Che prende ispirazione Ad altri titoli E l'unica cosa Che posso dirvi È di dargli Una possibilità Alla fine I gusti Sono soggettivi È vero Che Oggigiorno Ci basiamo molto Sulle recensioni Che troviamo online Però A volte Tocca andare anche Di istinto Oltre a dirvi Di non soffermarvi Alla demo E di acquistarlo Magari ascoltato Non posso Dirvi altro I trailer ci sono I gameplay in giro ci sono Quindi magari Non spoileratevi Tutto il gioco Però Vi chiedo solo Di dargli Una possibilità Perché vi giuro A me ha divertito tantissimo Mi ha sempre messo All'allegria Mentre lo giocavo Quindi spero che questo video Ti sia piaciuto Fammi sapere Con un commento Qui sotto Se hai giocato la demo Se magari l'hai acquistato Se l'hai giocato Totalmente come ho fatto io Così da scambiare Quattro chiacchiere Tutti insieme E soprattutto Dimmi anche cosa ne pensi Se l'hai giocato Così appunto So anche di altre opinioni Quindi spero che questo video Ti sia piaciuto E noi ci vediamo In un prossimo video In una prossima live O appunto su Instagram Dove vi racconto La mia vita noiosa Digimony Passo e chiudo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti